Una decina di squadre dei Vigili del Fuoco impegnate tutta la notte fino a questa mattina per domare lo spaventoso incendio divampato poco dopo mezzanotte in un'azienda agricola a Bolgia, frazione di Cosio Valtellino, tratti in salvo gli 800 capi di bestiame. Il proprietario dell'azienda ustionato nel disperato tentativo di salvarli. 35 anni fa la frana della Valpola era il 28 luglio del 1987 quando gli abitati di Aquilone e Sant'Antonio Morignone vennero cancellati dalla furia di uno smottamento di 40 milioni di metri cubi che uccise 29 persone. Oggi l'anniversario della più grande tragedia della Valtellina. Chiusure di servizi, preoccupazione per l'eventualità di doversi curare fuori provincia. I sei sindaci dell'Alta Valle per una volta non guardano le sorti del Morelli ma quelle dell'intera sanità provinciale e chiedono un intervento tempestivo della regione. Un saluto ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione del Tg di Telesondrio News. Una decina di squadre dei vigili del fuoco impegnate per domare lo spaventoso incendio divampato poco dopo la mezzanotte in un'azienda agricola a Bolgia, frazione di Cosio Valtellino. Davvero ingenti i danni, tonnellate di fiano in fumo, fortunatamente tratti in salvo gli 800 capi di bestiame. Il proprietario dell'azienda nel disperato tentativo di salvare gli animali ha riportato alcune ustioni ed è stato trasportato in ospedale. Simone Belletti. Un pauroso incendio si è sviluppato la notte scorsa a mezzanotte 20 in un'azienda agricola situata a Bolgia, frazione di Cosio Valtellino. A bruciare una stalla di vaste dimensioni, fortunatamente tutti salvi gli 800 capi di bestiame che erano ospitati nella struttura, mucche ed altri animali. Grande paura per un proprietario dell'azienda che nel tentativo di mettere in salvo i propri animali ha riportato alcune ustioni, tanto che è stato necessario l'arrivo dell'ambulanza e il trasporto in ospedale. Inizialmente le sue condizioni erano parse gravi, poi l'allarme fortunatamente è rientrato. Sono andate in fumo circa 500 rotoballe di fieno, equivalenti a 2000 quintali, che hanno ulteriormente alimentato il violento rogo. Le fiamme hanno coinvolto l'intero capannone, il tetto del quale è parzialmente andato distrutto. I vigili del fuoco sono stati costretti agli straordinari per domare le fiamme dell'incendio, che questa mattina era ancora attivo. Sono intervenute numerose squadre, i vigili del fuoco provenienti da Sondrio, Morbegno, Tresivio e Mese. Impegnate tre autobotti, due autopompe e un'autoscala, da Milano è arrivata una macchina a movimento terra con un escavatore. Non è ancora chiara l'origine del rogo, si esclude la matrice dolosa. Si pensa che le fiamme siano scaturite da un cortocircuito. 35 anni fa la frana della Valpola. Era il 28 luglio del 1987, quando gli abitati di Aquilone e Sant'Antonio Morignone vennero cancellati dalla furia di uno smottamento di 40 milioni di metri cubi che uccise 29 persone. La ricorrenza della più grande tragedia della Valtellina, commemorata con due funzioni religiose, una questa mattina nella chiesetta di San Bartolomeo de Castellaz e un'altra questa sera ad Aquilone. Vediamo il prossimo servizio. Una ferita lunga 35 anni. La distruzione, causata dalla violenza delle piogge di quell'estate, rimarrà per sempre scolpita nella memoria della Valtellina e dell'Italia intera, col suo carico di morte e di distruzione. È il pomeriggio del 18 luglio, quando nel paese di Tartano un'enorme massa d'acqua e fango si porta via la vita di 21 persone, di cui 11 turisti. Una tragedia immane, senza precedenti. Trascorrono esattamente 10 giorni. È il 28 luglio 1987. L'orologio è fermo alle 7.18 di mattina, quando in Alta Valtellina una frana di 40 milioni di metri cubi si stacca dal Monte Zandila, a 3.066 metri d'altezza. Siamo sull'alto versante montuoso della Valpola. Una scarica di detriti e roccia di immane potenza precipita a valle e cancella letteralmente due centri abitati, quelli di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, evacuati solo in parte perché nessuno avrebbe mai potuto immaginare quale onda d'urto avrebbe potuto scatenare una frana così imponente. Vedo la frana che collassa, comincia a scendere. Eravamo lì, l'ho vista scendere, risalire sull'altro versante e a un certo punto tremava tutta la casa. Ci siamo guardati in faccia e ho proprio detto ai miei fratelli, dobbiamo sparire. Quindi siamo scappati dal retro della casa, ci siamo infilati proprio in mezzo a queste due case che ci sono, ci è arrivata quest'onda a pochi metri, è stata risucchiata, in un attimo la frazione era sparita perché qui c'erano diverse altre case, non un filo di polvere. Siamo arrivati vicino al Sant'Antonio, c'era un signore con una jeep che sbatteva la testa contro la jeep e diceva i miei sono giù tutti, i miei sono giù tutti, infatti ha lasciato la moglie e i tre bambini. All'inizio noi non capivamo bene perché vedendo solo la parte sopra, poi una mezz'oretta dopo, un attimo dopo è arrivato il parco di Sant'Antonio e loro hanno cominciato a dire che il materiale era arrivato sopra la chiesa di San Bartolomeo che aveva distrutto tutto il paese e lì inizialmente pensavamo fosse matto. Il bilancio di questa tragedia parla da sé. A perdere la vita sono 22 persone tra abitanti e turisti presenti in zona, ma non solo perché a perdere la vita sono anche 7 operai giunti in paese per svolgere i lavori di ripristino della strada statale 38. Cosa rimane di quell'estate del 1987 oggi che la natura continua a presentare il proprio conto e solo a pochi chilometri da noi, in Val Camonica, i nostri vigili del fuoco stanno lavorando per dare assistenza ad altri disperati a cui la furia dell'acqua ha portato via tutto. Resta la consapevolezza di dover imparare da quanto ho vissuto, perché dinanzi alla forza della natura siamo davvero poca cosa. Certe calamità naturali sono inevitabili, ci sono state, ci saranno sempre. Non dobbiamo cercare di dominare gli eventi naturali, ma cercare di conoscerli per capire quando è il momento di fuggire. Ho passato 13 anni dalla mia vita a Sant'Antonio a Morignone e 30 fuori, però per me è casa mia, è ancora qui. Quando parlo dei miei posti di casa mia è ancora qua. Vorrei ricordare, dare un pensiero particolare a tutte le famiglie che hanno avuto i morti, perché quelle sono state quelle che hanno avuto le ferite più profonde e difficili da guarire. La regione intervenga senza indugio. A chiedere aiuto sono i sei sindaci dell'Alta Valle che tuttavia stavolta non si riferiscono alle sorti dell'ospedale di Sondalo, ma a quelle dell'intera sanità provinciale che a causa della scarsità di personale sta vivendo il proprio momento più difficile. Sebbene agosto sia alle porte è impensabile pensare che si possa affrontare la situazione oramai drammatica solamente a settembre. Rappresentano i sei comuni dell'Alta Valle, ma questa volta lanciano un appello che riguarda la sanità dell'intera provincia. Un appello rivolto alla regione, cui chiedono un intervento risolutivo che passi attraverso un dialogo con i sindaci di Valtellina e Valchiavenna, considerato che i disservizi non sono più riconducibili al solo presidio di Sondalo, ma all'intera rete provinciale. Esattamente come le nove sigle sindacali dei dirigenti medici e sanitari nei giorni scorsi, anche i primi cittadini di Livigno, Valfurva, Bormio, Sondalo, Valdidentro e Valdisotto, invocano una soluzione per evitare il collasso definitivo della sanità. I disservizi lamentati dall'utenza sono senz'altro legati alla carenza di personale, personale andato in pensione o trasferito in altri ospedali e nuovo personale introvabile. Ma ciò non significa che a livello centrale o almeno regionale non si debbano escogitare delle misure straordinarie per garantire anche ai valtellinesi il diritto alla salute. Scelte gestionali discutibili hanno portato dapprima all'esternalizzazione dell'attività del pronto soccorso di Sondalo, appalto che scadrà il 30 settembre e che chiediamo possa essere rivisto in toto viste le continue segnalazioni che raccogliamo circa di servizi e risposte sanitarie che spesso mettono a repentaglio l'incolumità dei cittadini, scrivono i sindaci. Di pochi giorni fa l'inaccettabile scelta di chiudere temporaneamente il reparto di neurologia con Stroke Unit di Sondrio, con conseguente trasferimento dei pazienti che necessitano di ricovero in Stroke Unit presso l'ospedale Niguarda di Milano. Ci viene davvero molto difficile immaginare come un paziente colto da ictus, malattia a tempo dipendente, in provincia di Sondrio possa raggiungere Milano senza che la situazione degeneri. I sei sindaci menzionano anche la situazione della ginecologia punto nascita di Sondalo. Le continue rassicurazioni da parte della dirigenza circa la piena attività del servizio sono costantemente smentite nei fatti, scrivono, dal momento che le future mamme vengono spesso dirottate sull'ospedale di Sondrio. Nella nota si ricorda anche la più recente tra le notizie, quella relativa alla volontà della direzione di ASST di sospendere dal prossimo 1 settembre e fino a data da destinarsi tutta l'attività di diagnostica per immagini, TAC, risonanze magnetiche, ecografie, salvo orare eccezioni come quelle relative all'ambito senologico e quelle richieste in regime di urgenza. Una decisione per i sei sindaci a dir poco scellerata e inaccettabile se si considera che stando così le cose i nostri cittadini dovranno ricorrere per tali prestazioni a strutture private oppure recarsi fuori da SST e quindi fuori provincia. Nel loro intervento infine i sindaci dicono di essere ancora in attesa di risposta circa alla loro proposta di utilizzare parte dei 38 milioni stanziati per l'ospedale Morelli per interventi sul padiglione Sesto che consentirebbe la gestione dei malati infettivi in maniera del tutto isolata dalle restanti attività ospedaliere non in promiscuità con le stesse. Oltre alla gravità delle situazioni esposte concludono riteniamo inaccettabile che i sindaci debbano prendere queste scelte gestionali e intraprese dalla dirigenza direttamente dalla stampa senza un preventivo confronto con le istituzioni del territorio. Nessuna replica per ora da parte dell'assessore regionale al welfare Letizia Moratti e tutto lascia intendere che i nostri ospedali navigheranno a vista almeno fino alla ripresa di settembre prima che si palesino soluzioni anche soltanto parziali a uno stato delle cose inutile nasconderselo realmente drammatico. Livigno per la prima volta a teatro di tre serate del Festival della Milanesiana che si sono concluse con successo ieri mercoledì 27 luglio. Abbiamo scoperto una terra meravigliosa dice Elisabetta Sgarbi, un clima straordinario ed un pubblico quantitativamente e qualitativamente molto interessato. Livigno non è solo turismo e sport ma anche cultura. Siamo molto felici chiosa il sindaco Remo Galli. Questo è il primo progetto di unione tra Livigno e Bormio. Roberta Cervi. Bisognava viverle come ha fatto l'intera comunità. Le tre serate della Milanesiana gettate come un ponte per il primo anno dall'organizzatrice Elisabetta Sgarbi e dall'assessora alla cultura del comune di Bormio Paola Romerio Bonazzi. Lunedì 25, martedì 26 e ieri mercoledì 27 luglio un crescendo di artisti frizzanti come la località stessa. Alice che canta Battiato, Cristina D'Avena con Jam Boy, gli extraliscio. Siamo arrivati prima a Bormio e poi a Livigno. Quindi abbiamo scoperto una terra meravigliosa, un clima straordinario ma anche un pubblico quantitativamente ricchissimo e anche qualitativamente molto interessato alla nostra proposta. La mia impressione è che Livigno sia stata felice di questa giornata che abbiamo pensato come il cuore del Festival La Milanesiana di quest'anno perché è un omaggio a Franco Battiato. E chi, se non Alice, poteva fare un omaggio più vicino e più sensibile a Franco Battiato per cui credo che con oggi si stia compiendo questa bella edizione. Livigno è stata gentile, dice Sgarbi. Sono stati tre giorni fantastici, pieni di emozioni, pieni di entusiasmo e Livigno punta ad avere anche il prossimo anno questo grande evento. È nata una collaborazione grazie appunto anche a questa rete che stiamo cercando di fare tra le località dell'Alta Valle e quindi siamo partiti con la cultura e non ci fermeremo. Sul titolo della milanesiana Omissioni il giornalista Paolo Conti intervista Alan Friedman, autore statunitense e l'imprenditrice Francesca Masiero. Focus, il prezzo del futuro delle comunità, la necessità di avere una prospettiva completa sulle cose, di dare ai giovani la guida delle aziende, considerare le competenze come mezzo non come fine, mettere fine alla disperità di genere, alzare i salari minimi e abbassare quelli alti che sono un peccato mortale. Gran finale con Davide Toffolo, disegnatore della musica, in concerto con gli istintivi extra liscio, grandi amici di Elisabetta Sgarbi con cui dicono di combaciare perfettamente. Sono loro gli ideatori della sigla Il Ballo della Rosa che risuonerà nelle nostre orecchie per tutta l'estate e oltre. Rinnovare la musica tradizionale è molto complicato perché la parola stessa racchiude tradizione e rinnovarla è un po' complicato. Noi ci siamo lasciati andare in questa sorta di punk da balera, in questa libertà, cercando prima di tutto di mischiare i suoni. Intanto suonare anche delle canzoni tradizionali della musica da ballo con dei suoni che non erano mai stati visti e sentiti e poi basta, poi c'è quel modo di buttarsi nella musica come dico io al buio perché oggi ancora più di tanto tempo fa è giusto partire senza chiedersi troppe, farsi poche domande insomma, suonare senza fare troppe domande, non inseguire le mode, seguire quello che si è. Il punk da balera sia quella cosa che nasce da una musica che trae origine da una terra e quindi loro si chiamano estraliscio che poi diventa estraliscio perché poi ne combinano di tutti i colori e a partire da una musica che è molto articolata e che richiede una grande maestria, una grande tecnica per chi la esegue, si arriva poi a sconfinare nel punk, nel rock, nella ricerca, nell'avanguardia. Quindi la trovo la cosa più bella perché è un segno di libertà, un segno di così voler superare ogni barriera e riuscirci ed è per me molto divertente. Anche sul territorio dell'ATS della montagna è partita l'offerta vaccinale anti-herpes zoster. L'offerta gratuita è già possibile per cittadini 65 anni, pazienti over 50 in condizioni di fragilità per patologia, pazienti da 18 anni in condizioni di elevata fragilità per patologia e ospiti delle RSA. La novità è che è possibile la cosomministrazione del vaccino anti-herpes zoster inattivato con la seconda booster, la cosiddetta quarta dose anti-covid. Covid, scusate, vediamo. Quarta dose di vaccino anti-covid 19 con possibilità di cosomministrazione della vaccinazione anti-herpes zoster, noto anche come fuoco di Sant'Antonio. Si tratta di un'opportunità completamente gratuita, rivolta alle persone dai 65 anni in su, ma anche a pazienti in condizioni di fragilità dai 50 anni e di elevata fragilità dai 18 e agli ospiti delle RSA. Dai dati relativi alla popolazione di Regione Lombardia emerge una scarsa adesione alla vaccinazione anti-herpes zoster nell'ultimo triennio. Per questo si è deciso, per così dire, di rilanciare quest'opportunità rivolta appunto alle fasce più fragili, nelle quali il beneficio dalla protezione è indubbiamente importante. I cittadini possono prenotare la vaccinazione presso gli ambulatori vaccinali di Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno, Chiavenna e Dongo, mentre il vaccino anti-herpes zoster in cosomministrazione sarà offerto attivamente ai soli cittadini che si recheranno ai centri vaccinali anti-covid per la second booster, ovvero la quarta dose, senza necessità di prenotazione. Ma che cos'è il fuoco di Sant'Antonio? Si tratta di una malattia infettiva causata dalla riattivazione dello stesso virus che causa la varicella. Mentre la varicella è tipica dei bambini, il fuoco di Sant'Antonio colpisce le persone adulte, soprattutto anziane. Il fuoco di Sant'Antonio causa sfoghi cutanei caratterizzati dalla comparsa di macchie rosse che evolvono in vescicole o bolle. L'area colpita, in genere il tronco, più raramente il viso, risulta dolorosa e spesso pruriginosa. Talvolta il dolore inizia prima che appaiano le macchie. In qualche occasione il dolore permane per diversi mesi dopo la risoluzione delle lesioni cutanee. In questi casi si parla di nevralgia posterpetica, una complicanza grave, invalidante e difficile da trattare. L'età anziana, lo stress e qualsiasi altro fattore in grado di ridurre le difese immunitarie dell'organismo rappresentano i principali fattori di rischio per la riattivazione del virus. Circa il 90-95% delle persone si ammala di varicella nel corso della propria vita e si calcola che di queste circa il 10-20% venga successivamente colpito dal fuoco di Sant'Antonio. In Italia si registrano circa 150.000 nuovi casi di herpes zoster all'anno, dei quali due terzi riguardano persone over 50. L'incidenza annuale negli ultra 75 anni si avvicina all'1,5%. L'età avanzata è quindi considerata il primo fattore di rischio per la riattivazione del virus varicella zoster. L'aver già sviluppato il fuoco di Sant'Antonio non protegge in alcun caso da successive riattivazioni. Il calcio femminile in Italia è diventato professionistico solo dal 1 luglio. È una bella realtà che abbiamo cercato di conoscere meglio andando a Livigno dove è in ritiro il Milan di Maurizio Ganz. L'ex attaccante di Inter e Milan si dice soddisfatto dell'accoglienza ricevuta in Valtellina, mentre il sindaco Galli anticipa che questo è solo il primo passo di una collaborazione che presto riserverà sorprese importanti. Il segna sempre lui, lui è Maurizio Ganz, classe 68, idolo dei tifosi del Milan che per l'attaccante hanno appunto cognato questa frase in dialetto milanese. 270 presenze in Serie A, 76 reti, molte indossando però anche la maglia dell'Inter. Oggi è il classico caso nel quale un allenatore forse più famoso dei giocatori o giocatrici che allena. Ganz, fedele ai colori rossoneri, guida il Milan femminile in ritiro ai 1800 metri di Livigno. Un rapporto destinato a diventare sempre più profondo, quello fra i colori rossoneri e l'alta Valtellina. Da alcuni anni il campionato di Serie A vede scendere in campo in modo più convinto anche le grandi del calcio italiano. Dal primo luglio il calcio femminile è riconosciuto anche in Italia come professionistico. Una nuova fase storica per queste ragazze, un traguardo tagliato dopo anni di battaglie e di genere. Ganz però ricorda che dal punto di vista dell'impegno e dei sacrifici, le sue calciatrici professioniste lo erano già da tempo. Loro sono professioniste, sono diventate professioniste quest'anno, ma in realtà loro lo sono. Quindi non c'è bisogno di… questo è un ulteriore passione avanti per loro, sotto tutti gli aspetti, sulle tutele soprattutto. E quindi è giusto che siamo arrivati a questo punto. Speriamo poi di progredire, che non finisca qua, che non possiamo poi far emergere con il calcio femminile insomma. Ma loro sono professioniste al 100%, quindi la responsabilità per noi è grande perché la nostra società si chiama C-Milan, quindi dobbiamo sempre fare il massimo e il meglio, ma loro ne sono consapevoli. Quindi noi gli daremo una mano e loro, come al solito, con la loro professionalità, con il loro impegno, con la loro volontà, faranno di tutto per portare il Milan qui in alto possibile. Il sindaco Remo Galli ha aperto per la prima volta le porte di Livigno ad una squadra di calcio femminile e il progetto punta ad ampliarsi nei prossimi anni, senza dimenticare l'enorme macchina organizzativa che l'Alta Valtellina sta mettendo in atto in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. E questo legame con il Milan implica anche un legame con Milano, quindi è una cosa molto positiva che si lega anche a questo obiettivo olimpico che per noi è importante, soprattutto nell'ottica della sostenibilità e dello sport per i ragazzi, perché crediamo che ogni euro che investe all'amministrazione nello sport sia un euro ben speso perché i nostri ragazzi possano veramente avere quei valori che si possono portare per tutta la vita. Livigno si conferma dunque una destinazione turistica internazionale che unisce l'arte dell'accoglienza allo sport anche professionistico. Il Milan resterà in Valtellina fino a domani, dopodiché farà ritorno al Vismara per affrontare l'amichevole con il Como il 4 agosto. Lo scudetto del calcio femminile? Beh, da cinque stagioni lo vince la solita Juventus. Ora potrebbe essere proprio la volta delle ragazze di Maurizio Ganz. Partenza alla grande per i saldi tiranesi, caccia lo sconto da parte di residenti di ogni età ma anche tanti turisti che in questo periodo si trovano nella città aduana. Soddisfatti i titolari dei negozi? Gabriella Garbellini. A Tirano è assalto ai saldi. Sarà perché sono convenienti? Sarà perché un vestito di buona fattura ad un prezzo inferiore rispetto al consueto fa sempre gola? Fatto sta che nella maggior parte dei negozi dislocati fra il Centro Storico e Via L'Italia i saldi piacciono eppure tanto. Soddisfatti i titolari che accolgono con il sorriso i residenti ma anche un gran numero di turisti giunti in valle in queste settimane per cercare un po' di refrigerio e ammirare i verdeggianti paesaggi. Noi siamo in Valtellina, siamo in vacanza, veniamo dal Benga in Liguria, dalla Liguria e qui ci sono negozi fantastici e è un posto meraviglioso. Loro arrivano dal mare, hanno scoperto le delizie culinarie e paesaggistiche della Valtellina e non potevano non concedersi sano shopping. I saldi stanno andando benissimo, siamo molto contenti per come sono partiti e vi aspettiamo per i nuovi arrivi e la nuova collezione. Quest'anno è molto caldo e per la maggiore vanno i vestiti. Questa partenza dei saldi è stata alla grande, stiamo lavorando molto bene, c'è un buonissimo afflusso di clienti anche stranieri e Tirano devo dire che sta diventando sempre più interessante e più appetibile un po' per il pubblico anche straniero. Abbiamo tante tipologie di saldi, dai saldi di partenza dal 20% fino al 30% e arrivare fino al 50% sugli articoli, quelli che sono gli ultimi pezzi. Devo dire che la clientela comunque ci sta riconoscendo un ottimo afflusso perché vedono un negozio con tanti articoli e quindi possono scegliere quello che preferiscono. Caccia agli sconti anche da parte di ragazzi giovani e meno giovani, attenti alla moda e dettagli. Valtellina per tanti significa montagna, lunghe e passeggiate, sport sano ed è per questo che in questi giorni di sole e caldo si è vista una maggiore affluenza rispetto al consueto anche nel negozio di articoli sportivi Ideasport in via Pedrotti a Tirano. Ottimi saldi, diciamo che la stagione sta andando molto bene, in particolare il settore trainante, quello del trail running e del trail in generale perché la gente va tanto a camminare, a vivere le nostre montagne e quindi diciamo che si attrezza nel modo giusto. Quest'anno veramente siamo molto contenti dei saldi perché abbiamo tantissimi turisti, anche stranieri. Forse un po' meno i nostri italiani, ma c'è un sacco di gente in giro anche ben propensa a comprare. E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale appuntamento alle prossime edizioni del Tg di Telesondrio News. Buona serata.